Buonasera e ben ritrovati cari telespettatori. Naturalmente siamo in diretta come ogni sera, entriamo nelle vostre case a Tu per Tu con chi? Con il nostro avvocato Sabrina Brombal. Buonasera a tutti, buonasera a Maria Rosa, sono felice di essere qui nuovamente, magari i telespettatori saranno stanchi. Anzi, io ho fior di messaggi che mi dicono quando torna la Brombal, quando arriva la Brombal, quando posso fare delle domande alla Brombal, ecco che stasera è la sera giusta. E quindi anche, guardacelo qua, ecco qua, dall'avvocato Sabrina Brombal, la prossima diretta, eccoci qua, siamo in diretta anche questa sera, salutiamo tutti i nostri telespettatori. E naturalmente ci occupiamo di argomenti che riguardano i nostri diritti, anche qualche dovere, però i nostri diritti. Devo dire che sono ancora più contenta che stasera, 8 marzo, giorno della festa della donna, facciamo gli auguri a tutte le nostre telespettatrici. E mi piace essere proprio con una donna, con un avvocato, che da sempre, insomma, se può, è dalla parte delle donne. Certo, certo. Anche se, adesso esula dall'argomento, parlando di quota rosa, di tutela della donna, ecco io spero arrivi prima o poi il momento in cui non ci sia più bisogno della quota rosa. Che la donna riesca ad esprimersi, ad essere valorizzata per quello che effettivamente vale, per quello che riesce a dare. Quindi è un processo che sarà sicuramente lungo, però io ormai non ci arrivo più, mi auguro che mia figlia... No, però qualcosa vediamo all'orizzonte, la premier donna. Sì, sì, no ma poi leggevo ormai nella vocatura le donne superano gli uomini e anche per quanto riguarda la professione medica, non era mai successo, ci sono più donne che uomini, ho sentito un sondaggio, una statistica più che un sondaggio, che mi sembra nei prossimi dieci anni le donne saranno il doppio degli uomini. E la scorsa settimana abbiamo avuto un notaio donna e anche ti posso dire che nella categoria dei notai le donne hanno superato gli uomini e quindi c'è da studiare c'è la donna. No, c'è da studiare, poi secondo me ovvio non si può come sempre generalizzare, però noi donne tendiamo ad avere forse una precisione maggiore, un'attenzione anche magari agli argomenti più sensibile, diverso rispetto a quello che hanno gli uomini, vabbè ognuno ha le proprie peculiarità. Allora, gli auguri li abbiamo fatti, possiamo partire e partiamo ovviamente con una notizia legata all'attualità, titoloni sui giornali, abbiamo intitolato così anche la nostra puntata, adesso cerchiamo di entrare nel vivo della faccenda, pare che divorziare sia ancora più facile perché davvero basta pochissimo. Scusa la risatina, diciamo che è stato un po' uno specchietto per le allodole questo titolo, perché la professoressa Cartabia sicuramente un personaggio di super livello, però è una teorica, come tutti i professori sulla carta sono effettivamente bravissimi, ti danno delle idee fantastiche nella situazione pratica. Le cose non sono proprio così. Bene. E quindi, cari telespettatori e telespettatrici, scordatevi che il divorzio sia più breve. Ok, partiamo da cosa diceva la vecchia normativa. Allora, io direi, partiamo prima da quella che è la separazione consensuale, che per fortuna cambia poco rispetto alla precedente normativa. Si fa sempre nello stesso modo, si presenta ricorso. La differenza, ma che è più procedurale, che interessa a noi avvocati, il ricorso deve essere sottoscritto dalle parti. Mentre bastava, fino al 28 febbraio, sarebbe bastato che ci fosse la firma sulla delega e quindi l'atto fosse firmato direttamente dall'avvocato. Poi cambia leggermente la documentazione che deve essere prodotta, anche se comunque c'era già nell'ultimo periodo, veniva richiesto sotto una forma di disclosure finanziaria, reddittuale, economica, veniva richiesta le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e quindi comunque questa non è che vari moltissimo. Poi un'altra procedura, nel senso che se dopo il covid le udienze da in presenza sono diventate cartolari, ovvero i coniugi non si presentano più davanti al giudice. Parliamo di consensuali, è quando ovviamente i coniugi sono d'accordo. Non si presentavano più davanti al giudice, ma il giudice quando aveva fissato il provvedimento, la data dell'udienza, comunicava agli avvocati se avessero voluto avvalersi o meno della possibilità di rinunciare all'udienza e quindi fare un'udienza cartolare, cioè mandare attraverso il processo civile telematico la dichiarazione dove appunto confermavano le condizioni e quindi era posto. Adesso per poter usufruire di questa possibilità bisogna indicarlo subito in ricorso, cioè non ci sarà più l'input da parte del giudice che ti dirà ok vuoi non partecipare in udienza. Però ti dico rimane esclusivamente quello, anche perché devi indicare la presenza dei figli, ma quello lo facevi comunque, cioè sia se vi erano dei minori sicuramente o dei maggiorenni non autosufficienti, ma comunque erano cose che con la prassi andavi avanti a fare, il codice fiscale, la professione delle parti, perciò la consensuale diciamo che non si modifica più di tanto, cambia quella che è la separazione giudiziale e il divorzio contenzioso, ovvero quando le parti ahimè non riescono a trovare un accordo. Prima, ne avevamo già parlato, si faceva il ricorso per separazione giudiziale, si depositava, il giudice dava la data dell'udienza, veniva notificato, c'era l'udienza presidenziale davanti al giudice, solitamente o era un delegato del presidente del tribunale, lui era proprio il presidente del tribunale stesso, che stabiliva quali fossero i provvedimenti provvisori da prendere, sulla base degli iscritti che avevano depositato gli avvocati, che molte volte erano scarni, nel senso perché comunque sia nel ricorso potevi addurre, è diventato insopportabile la convivenza, perché non mi aiuta a fare le lavatrici, è stato fatto, e quindi io voglio separarmi e così via. E poi andava avanti, il giudice, soprattutto se c'erano dei minori, ovviamente prendeva dei provvedimenti provvisori, e poi c'erano dei termini successivi per depositare le memorie, depositare le prove, cioè quindi addurre le prove a proprio favore, sentire i testimoni e tutto quanto. Dopo un anno dalla sentenza di separazione giudiziale, si poteva presentare istanza per divorzio, che anche come sappiamo, come abbiamo sempre detto, come per la separazione, c'è divorzio congiunto, che è il divorzio in cui le parti sono d'accordo, e il divorzio contenzioso, quando le parti non sono d'accordo. Adesso è stata sbandierata questa situazione, dove dice che divorziare adesso è più semplice, è più veloce. Cosa è successo? Praticamente si deve fare tutto prima, nel senso, prima, appunto, facevi questo ricorso introduttivo in cui comunque avevi idea della situazione più o meno come fosse, perché non è che potevi fare, soprattutto per un giudiziale, devi comunque motivare le tue richieste. Quindi indicavi già i documenti che potevano essere a tuo vantaggio, indicavi già i testi che avrebbero potuto portare, però dopo l'udienza presidenziale, in cui il presidente del tribunale teneva questi provvedimenti provvisori, c'era la fase istruttoria, cioè si andava davanti a un giudice istruttore, e in quel momento l'avvocato aveva ancora il termine per presentare altri documenti, altri testi, altri capitoli di prova, insomma, quindi era in questo senso, forse dicono, è più semplice, perché non c'era quel tempo lì. Adesso, diciamo che è diventato molto simile alla procedura del lavoro, cioè con il ricorso introduttivo devi già mettere tutto, devi già mettere tutto quello che a te interessa, già tutti i capitoli di prova, già tutti i documenti, e non sempre è così semplice, nel senso che devi comunque già motivare in maniera seria, definitiva. Quindi, porti tutti i tuoi documenti, con tutte già le prove, quindi quando uno è deciso a separarsi, prima e poi a divorziare, deve comunque avere già le idee chiare, cioè non può un po' cincischiare, e dire sì, posso sentire se c'è qualche mio vicino di casa, no, in quel momento devi già farlo, devi già farlo. E quindi, no, cioè c'è un grande lavoro di preparazione prima. C'è un grande lavoro di preparazione prima, assolutamente, depositi questo ricorso, in cui indichi tutto quello che per te può essere utile, anche perché poi non potrai più farlo, no? Deposi tutto quanto, il giudice fissa una data, la data deve essere dell'udienza, deve essere fissata entro 90 giorni, da quando viene depositato il ricorso. Tu devi notificare il convenuto, il convenuto deve avere l'atto almeno 60 giorni prima, e costituirsi almeno 30 giorni prima. E il convenuto, no, deve agli stessi incombenti che ha il ricorrente, quindi anche lui a sua volta deve già preordinarsi tutte le prove, deve avere tutti i documenti, deve avere tutte le situazioni ben chiare. Con ancora meno tempo però, rispetto. Con ancora meno tempo, ma poi c'è un altro termine ancora, perché ci sono i 10 giorni, perché nei 10 giorni tu puoi comunque eccepire e replicare a quello che ha fatto il convenuto. Poi ci sono altri 5 giorni in cui, quindi, arrivi davanti al giudice, e questi dovrebbe essersi letto 4 e 4 memorie, no? 4 da parte del ricorrente e 4 da parte del convenuto. Per esperienza, non per, spero non ci siano giudici che ci ascoltano, o comunque non di pavia. Non arrivano così, l'amore di lavoro è tanta. Non arrivano così preparati, nel senso, allora, se arrivi preparato, effettivamente il dover comunque in un'unica soluzione e da subito produrre tutto quello che ha in mano, effettivamente agevola il giudice. Però nella pratica io non so se sia effettivamente così fattibile, anche perché devi sempre, tra i documenti che devi produrre, ci sono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, tutte le visure ipocatastali che attestino gli immobili, le proprietà che sono alla tua titolarità, e poi devi anche depositare gli estratti conti degli ultimi tre anni. Cioè, devi andare a fare l'ISEE, praticamente. Devi andare a fare l'ISEE. Allora, gli estratti conti degli ultimi tre anni, cioè dalle app non riesci, quindi devi andare in banca. Ah, proprio l'estratto conto, manco il saldo. No, no, l'estratto conto degli ultimi tre anni, con tutte le movimentazioni. Mi capisci che va bene, in linea teorica è perfetto, perché arrivi davanti al giudice e il giudice effettivamente ha davanti le prove della tua effettiva capacità reddituale, perché se no, quando nella precedente normativa andavi davanti al giudice, doveva comunque fidarsi, tra virgolette, di quello che tu producevi, di quello che dicevi. Quindi, il problema è, il giudice sarà in grado di farlo? Le parti, sarà tanto così breve il no? Perché comunque sia, queste cose devi farle prima. Quindi comunque, cioè, allunghi prima. Cioè, accorci forse, accorci dopo, ma allunghi prima. Anche perché ha un estratto conto, poi va anche interpretato. No, va interpretato e ti costa, perché comunque le banche te lo fanno pagare, no? Quindi, ti dico, sicuramente dal punto di vista teorico è ottimo, perché comunque il giudice è messo nella condizione di sapere, prendere già dei provvedimenti che possono essere effettivamente motivati, possono essere equi, no? Però adesso, allora, mi viene da pensare, allora tutti i provvedimenti che sono stati presi prima, li hanno presi così, come venivano, venivano. Cioè, magari, insomma, ci saranno anche altri elementi per valutare. Cioè, vedi, anche parli con le parti. Cioè, non sono tutti degli attori, no? Da Oscar, per cui vanno lì e ti riescono a intortare il giudice. Insomma, un minimo di esperienza, fai due o tre domandine giuste e ti rendi conto di com'è la situazione. E quindi hai tutta questa trafila. Quando ci sono di mezzo dei figli, devi presentare il piano genitoriale, ovvero, devi comunque mettere per filo e per segno tutto quello che riguardano i figli, ovvero, a che ora vanno a scuola, con chi vanno a scuola, attività extrascolastiche, attività ludiche, ripetizioni, vacanze, tutto quello che riguarda il figlio, devi metterlo dettagliato giorno per giorno, momento per momento. Solito discorso di prima. Il giudice così riesce, dovrebbe, riuscire a capire a chi affidare il pesi, valutare l'eventuale mantenimento e tutto quanto. è che secondo me, ed è quello che pensiamo in tutto, nel senso noi avvocati siamo un po', non sul piede della guerra, o forse rassegnati, siamo perplessi e ci stiamo confrontando nelle varie chat tra di noi, no? E tutti siamo allibiti, perché comunque sia, è una riforma che sulla carta, per carità, è perfetta, nella pratica, è poco praticabile, scusami, ripetite, gioco di parole, perché comunque sia, già il Tribunale della Famiglia entrerà in vigore a ottobre 2024, quindi adesso siamo in quella terra di nessuno, in cui se non produci queste cose, il ricorso c'è il rischio che te lo dichiarino inammissibile, quindi te lo rigettino a priori, quindi che tu non vada avanti con la procedura. Però, dall'altra parte, non ci sono i mezzi e le persone deputate a valutare queste prove, a valutare la situazione in sé. Come sempre abbiamo, poi vabbè, ovvio questo era per, no, temperare a quanto previsto dal PNRR, quindi tutto quello che vuoi, però è complicato, cioè anche soltanto, scusami, il piano genitoriale, cioè non è così una cosa semplice. Poi, penso che, senza penso, il riferimento ad esso divorziare è ancora più semplice, c'è questa possibilità, secondo me, scellerata, di presentare contemporaneamente un ricorso per separazione e ricorso per divorzio. Allora, fermiamoci qui, no, perché proprio era questo il punto della questione, separarsi e divorziare contestualmente, c'è la telefonata per noi. Pronto, chi parla? Buonasera, telefono da Milano. Sento un'informazione. Volevo sapere, non so perché l'ho accesa adesso, quindi non so se, diciamo, la domanda è pertinente. Volevo chiedere se si può parlare, per quanto riguarda, diciamo, la procedura per la corte di Strasburgo, cioè in quali casi, come funziona, cioè avere qualcosa di più approfondito, perché non so assolutamente nulla. Della corte di Strasburgo? Allora... Sì, per i diritti umani, per i diritti umani. Certo, credo che non sia necessario andare a Strasburgo per divorziare. No, no, non per questo. Quindi questo è un argomento che trattate stasera? No, noi stiamo parlando delle nuove norme per divorziare, per separarsi e divorziare contestualmente, quindi in realtà dovrebbero accorciarsi i tempi per ottenere il divorzio. Credo che questa sia una domanda che riguarda un altro tipo di processo, però ci ha dato uno spunto e la prossima volta che ci sarà un avvocato in studio potremo parlare di quali processi arrivano alla corte di Strasburgo. Sicuramente, per fortuna, non i divorzi. No, 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 non questo. Magari se dovessero essere considerati violati dei diritti e comunque considerati violati i diritti e contrari alle norme comunitarie, allora a quel punto dovrebbe andare... Perché il Tribunale di Strasburgo è il Tribunale europeo, in buona sostanza. Infatti, infatti, infatti. Certo, certo, certo. Che è più... Anche perché quello che io so sono delle cose vergognose, perché per esempio, non so, una persona che è stata incarcerata ingiustamente e quindi poi riconosciuta innocente chiede, diciamo, di essere, diciamo, pagata... Risarcita, risarcita, certo. Risarcita, sono 8 euro al giorno, quindi io vabbè... Allora, signora, adesso poi lasci il numero di telefono alla nostra redazione. Le faremo sapere quando tornerà l'Avvocato Pietro Trivi perché con lui stiamo proprio facendo, no, i gradi del processo. Mi sa che è terminato l'appello e la Cassazione... E dopo c'è a Strasburgo. Per determinati diritti, sì. Quindi, ecco, tornerà presto l'Avvocato Trivi e arriviamo anche a Strasburgo, signora. Quindi le faremo sapere. Grazie mille. Rimanda con noi. Ecco, comunque adesso rifaccio il numero e mi passerei il centronino. No, la riprendono di là. Grazie mille. Grazie mille. Buona serata. Buonasera. Salve. Eccoci qua. Ha seminato il panico a Strasburgo. Ho detto, vabbè, la cartabia... È too much, no? Sì, sì, decisamente per le mie competenze. No, per le tue competenze, ma per l'argomento che... No, certo, no, non è assolutamente pertinente, vabbè, ma non aveva sentito. Vabbè, signora, ci mancherebbe. Benvenga, fate tutte le domande che volete, poi noi rispondiamo nella sede giusta. Effettivamente, col tuo collega Trivi, no? Proprio perché piace anche ai telespettatori essere informati. Sì, ma giusto. Siamo facendo tutti i gradi del processo. Siamo arrivati alla Cassazione, no? Ah, beh, quindi certo. Ci siamo quasi a Strasburgo. Per lesione di determinati diritti, assolutamente, bisogna andare alla Corte di Strasburgo. Anzi, benvenga che ci sia un ulteriore tribunale dove rivolgersi sia nel proprio paese, si ritiene. Di non essere stati tutelati e di non aver ottenuto giustizia, certo. Bene, cara Sabrina. Allora, torniamo su questa separazione e divorzio, no? Intanto è arrivata una domanda. Praticamente Daniela ci chiede, con la nuova norma, in quanti anni, alla fine della fiera, si può divorziare? Cioè, quanto tempo ci vuole? Allora... Perché sai, che adesso è tutto... Cioè, la vita è fast. Abbiamo tutti la fregola, dobbiamo fare tutto... La vita è fast, cotta e mangiata. Diciamo che la razio di questa normativa, di questa riforma, era proprio quella. Si calcolava che per arrivare a un divorzio ci si dovessero mettere otto anni. Un divorzio a livello contenzioso, perché il congiunto è sempre un'isola felice, per quanto possa essere felice è un divorzio, insomma. Adesso, secondo le stime, 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 dovrebbe essersi, dovrebbe ridursi a tre anni e mezzo. Io sono molto scettica, ti dico... Eh, l'abbiamo capito. Ma io, come tutta la mia categoria, cioè non è che io sia una voce fuori dal coro. No, no, assolutamente. Anche perché, da come abbiamo capito, e ci stai dicendo, dovrebbe venirsi a creare un tribunale apposta. Sì, c'è il tribunale della famiglia, il tribunale della famiglia che avrà una competenza, per quanto riguarda, appunto, diciamo, diritto di famiglia matrimoniale, no, quindi separazione e divorzi, dovrebbe inglobare il giudice tutelare e praticamente rimanere soltanto fuori quello che riguarda le adozioni, gli affidi, no, che dovrebbero andare ancora al tribunale dei minori. Però comunque questo tribunale della famiglia in cui dovrebbero esserci comunque dei giudici formati per questa attività. Ovvio che se uno probabilmente fa diritto di famiglia da anni, dovrebbe avere un'esperienza maggiore. Però devono essere proprio formati e in teoria bisognerebbe creare una sorta di pool di formazione, ma anche agli avvocati, gli psicologi, gli assistenti sociali, perché è una materia in cui tutte queste professionalità devono comunque collaborare, devono cooperare con il fine ultimo che come sappiamo sempre è quello della tutela del minore che è stato ben esplicato. Purtroppo come hai detto tu giustamente a inizio di puntata, questo paese quantomeno, poi magari anche altri in Europa, chi lo sa, ha un problema. Le leggi le scrive chi non fa e quindi poi chi fa si trova lì a decifrare delle cose incredibili. È più o meno la stessa cosa che succede con le leggi finanziarie, che poi abbiamo corsi e ricorsi, revisioni, cambiamenti quando la legge è già fatta. Perché? Perché poco si sposano con la pratica. E quindi qua mi aspetto anche in questo caso... No, guarda, io ho depositato un divorzio per carità congiunto. Io lunedì 27 ero lì a mezzanotte a mandare il ricorso a quel processo civile telematico, proprio per non... Ma c'era un intasamento, perché quindi come me, non so quanti altri professionisti, miei colleghi, hanno fatto la stessa cosa, perché c'è l'incertezza più assoluta. Ma questo potrebbe riguardare anche appunto il consensuale? No, il consensuale non dovrebbe, ci dovrebbero essere soltanto appunto delle documentazioni in più che ti dico che con la prassi abbiamo già nel frattempo fatto, no? Perché comunque io già da sempre no, perché una volta le consensuali congiunti erano molto easy, ma negli ultimi anni comunque le dichiarazioni di eredite degli ultimi tre anni le ho sempre depositate. Quindi ti dico, da questo punto di vista cambia poco. Cambia poco. Va bene, allora adesso andiamo in pubblicità, poi se c'è qualche altra domanda su questo argomento, se no passiamo alle nostre belle sentenzine. No, no, ma non è finito. Ah, non è finito? No, no, e no, perché non abbiamo parlato della separazione e del divorzio contemporanei. Ah, sembrava troppo facile qua. Ci vogliamo sempre complicare la vita, cari legislatori, pubblicità per noi. Eccoci, torniamo in diretta, lo facciamo con il nostro avvocato Sabrina Brombal, e come dicevamo all'inizio puntata, su tutti i giornali abbiamo deletto quanto potrebbe essere più facile divorziare, perché si può fare contestualmente alla separazione, era un po' questo il nocciolo del discorso. E adesso scopriamo come si fa, se è veramente così facile. È l'ennesimo specchietto per le allodole. Perché? Oggi non ne va bene una. No, oggi sono veramente polemica. Praticamente si ha l'opportunità, quindi non l'obbligo. Io ho sentito, ti ripeto, perché ci stiamo confrontando parecchi nostri colleghi, anche il Consiglio nazionale, difficilmente verrà espletata questa formula, perché comunque sia, quando depositi questo ricorso per separazione, in cui devi aver presentato il piano genitoriale dettagliatissimo, le tre dichiarazioni dei redditi, gli estratto conti degli ultimi tre anni e tutto quanto, contemporaneamente presenti anche il ricorso per il divorzio contenzioso. Orbene, non so in quanti, al momento in cui depositano il ricorso per separazione, siano già convinti di voler divorziare, ma soprattutto di divorziare le stesse condizioni. Certo. Perché le cose cambiano, cioè nel senso, poi per carità c'è ancora la possibilità della modifica, come sempre, però anche razionalmente diventa complicato pensare di riuscire già a comunque decidere, anche perché comunque non c'è alla fin fine un risparmio di tempo, perché comunque devi aspettare che la sentenza della separazione sia comunque passata in giudicato. Quindi, comunque, sì, l'hai presentato all'inizio, no? Però, non ti è cambiato niente, perché comunque devi aspettare che la sentenza sia più appellabile, no? Che sia passata in giudizio. Quindi, la finalità qual è? Cioè, comunque poi a quel punto aspettare che la sentenza sia passata in giudicato, punto e basta. Risparmi, forse 90 giorni, i 90 giorni. Perché adesso in quanto si divorzia in Italia? Allora, ascoltami, io diciamo che non ho fatto tantissimi divorzi contenziosi, anche perché parliamoci chiaro, le persone normali magari cominciano con un giudiziale, o un contenzioso, ma poi in corsa le fai ragionare. Ma sì, le fai ragionare. Allora, un po' la credine iniziale, il motivo per cui ti stai separando, si va a fievolire. No. Poi i costi, i costi, le dinamiche, l'inudienza, cioè le cose che devi scrivere, comunque cose intime, spiacevoli, no? In corsa quasi sempre li converti. Cioè, praticamente, è una separazione che cominciava come giudiziale, provvedimento del giudice iniziale, che già ti dà un'idea di quale potrebbe essere l'orientamento, trovi l'accordo. Solitamente era così, quindi, adesso, io non lo so, per quanto questa statistica che prevedeva divorzi da otto anni, a me non è mai successo, perché, insomma, ormai non sono più proprio una neofita della professione. Otto anni, magari, sì, certi divorzi milionari, con degli strassi, milionari, cioè nel senso in cui ci sono dei patrimoni seri da dividere, perché parliamoci chiaro, le persone normali, alla fin fine, quello che spendono tra avvocati, procedimenti e tutto, alla fine, forse, gli conviene trovare un accordo. Un accordo, e invece la consensuale, no? Che tempi ha? Ma no, la consensuale in sé, ti dico, una volta che viene depositato il ricorso, automatica, se il giudice nei nostri tribunali è abbastanza veloce, tutto quanto, nel giro di un paio di mesi è la separazione. È la separazione, e poi per chiedere il divorzio devi aspettare? No, se è una consensuale, dopo sei mesi, dalla, 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 balbetto anche, sentenza, dopo sei mesi, no, dall'udienza presidenziale, dalla comparizione, oggi, dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, devono passare sei mesi. Sei mesi. quindi, alla fin fine, non è che, e poi c'era sempre quella della negoziazione assistita, cioè quella possibilità, e lì non è variato molto, se non che si debba fare solo in telematico, però è abbastanza semplice come situazione. Cara Sabrina, mi avete sempre spiegato, voi avvocati, che, proprio il diritto italiano, siccome è bello, e siccome è il migliore di tutti, e siccome, con più tradizione, sicuro, con tanta tradizione, aveva proprio messo un periodo, fra la separazione e il divorzio, che potesse servire, non tanto a produrre atti, quanto a, magari, un ripensamento, decantare, decantare, metabolizzare la situazione, e che servisse a capire, se veramente si era pronti, allo step successivo, quindi, che era importante, che queste due fasi, rimanessero slegate, separate, proprio per far capire, che, una era una situazione, temporanea, temporanea, mentre l'altra, è una cosa definitiva, infatti, come mai adesso, il legislatore ha pensato, che non c'è più, bisogno di rimettere insieme, la famiglia, cara Sabrina, guarda, tra l'altro, l'escursus, inizialmente, tra separazione e divorzio, dovevano passare cinque anni, poi siamo passati a tre, che mi sembra, una roba più umana, tre, effettivamente, era tanto, no, tre, dopodiché, recentemente, c'è stata quest'ulteriore modifica, sei mesi, per consensuale, congiunto, un anno, per quanto riguarda i giudiziali, e poteva essere, tutto sommato, una tempistica, fattibile, già, secondo me, sei mesi sono pochi, perché, comunque, sia, devi prendere le misure, devi, comunque, orientarti, devi cercare di capire, un po' il giro del fumo, in poche parole, non è che, improvvisamente, tac, inizi, riesci ad organizzarti con i figli, fai tutto, quindi, il pensare che, in una fase di separazione, in cui, non sai come vanno le cose, sei nel pieno, della lite, no, perché se sei in giudiziale, vuol dire che non stai andando d'accordo su nulla, sei nel pieno della lite, con una crimonia, un'acidità, un'aggressività, che, comunque, non ti fa essere così lucido, anche perché, ovviamente, non tutti i legali sono uguali, c'è chi, tende a mediare, che cerca, comunque, no, di trovare una soluzione, proprio, finalizzata, al benessere dei figli, che possa, magari, anche andare un po' contro, alle esigenze, alla volontà del proprio cliente, ci sono, invece, certi legali, che invece, bellicosi, no, che aizzano, vogliono andare in giudiziaria, esatto, e, e, quindi, cioè, diventa veramente rischioso, cioè, quindi, se questi legali fanno già, separazione e divorzio, insieme, ti dico, diventa, complicato, e non è una questione di costi, è perché, al cittadino, l'avvocato costa allo stesso modo, perché, comunque, io faccio due ricorsi, cioè, comunque sia, cioè, ok, forse, ti risparmi i soldi, del doppio estratto conto, dei tre anni, però, penso che, saremo sui 50 euro, più o meno, quindi, è diventato, davvero, un'illusione, il fatto che, comunque, ha questo, questo doppio atto, si possa fare insieme, comunque sia, la sentenza, di separazione, deve passare in giudicato, pertanto, comunque, non è che, vanno avanti due processi paralleli, no, no, quindi, e poi, davvero, come puoi pensare, che, una volta che hai deciso di separarti, hai già deciso, allo stesso modo, di divorziare, cioè, comunque, di interrompere definitivamente, i rapporti, no, a livello di, di coniugi, la vedo, ti dico, allora, a sto punto, avrebbe forse avuto più senso, secondo me, fare come in tanti altri paesi, in cui, non è prevista la separazione, cioè, direttamente il divorzio, ok, e quindi, allora, in quel senso, si tagliavi uno step, e sapevi che, quando arrivavi lì, no, cioè, punto, punto di non ritorno, per modo di dire, perché, comunque sia, poi ti puoi risposare, ci mancherebbe, ti dico, a quel punto, secondo me, sarebbe dovuto essere così, avrebbe avuto più senso, cioè, perché comunque, hai già risposto alla domanda, di Caterina, che ci chiede, se esiste l'annullamento del divorzio, no, l'annullamento del divorzio, no, nel senso, uno, se si risposa, ricostituisce un'altra cosa, perché, comunque, il divorzio, è una pietra tombale, no, poi può essere risollevata, quindi, però, comunque sia, se c'è una sentenza di divorzio, quella è, tra l'altro, comunque sia, se anche uno dovesse appellare, no, la sentenza di divorzio, non è mai, sul provvedimento in cui, prevede, lo scioglimento, dell'unione, e per situazioni economiche, e tutto quanto, quindi, puoi variare le condizioni, ma non sicuramente, ma una volta che la sentenza, disposto, lo scioglimento del matrimonio, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando siamo in presenza di un matrimonio concordatario, perché la differenza è quella, no, a quel punto lì, quello è finito, poi, puoi discutere su quanto vedete il figlio. comunque, rimaniamo sul fatto che, sicuramente, in sei mesi, magari, vogliamo essere anche un po' pratici, se c'è una scalmana, nella coppia, no, anche quando ci si ama, ogni tanto, c'è qualche errore di, eh, qualche, ma assolutamente sì, uno ha un'uscita di strada, per entrare, certo, c'è uno svione, no, però sei mesi sono un po' pochi, per farsi passare, eh, la scalmana, magari, guarda, ti dico, sono sempre stata molto scettica, su queste tempistiche, perché, perché, se è una donna d'esperienza, ma sì, d'esperienza, secondo me, basta anche usare un po' il buon senso, cioè, anche tu, come mi dici, ascoltami, in sei mesi, come puoi valutare, effettivamente, come andranno le cose, cioè, nulla irreversibile, no, per quanto riguarda, appunto, il divorzio, per carità, ci mancherebbe, però, cioè, poi tornare indietro è comunque complicato, cioè, una volta che comunque è questa sentenza, di fatto diventate due estranei, ricostituire. Ma se non diminuiscono i costi, non diminuiscono le incombenze, a livello di documentazione, anzi, abbiamo capito che forse, aumentano, senza forse, perché questa... Eh, la razio è quella di limitare le tempistiche, che poi, spesso, il legislatore ha cercato di fare, trovare queste soluzioni, perché interrompe a livello del processo, quello che era, per una separazione giudiziale, un divorzio contenzioso, la bifasica, cioè, la prima udienza, che facevi davanti al Presidente del Tribunale, in cui venivano presi i provvedimenti provvisori, per decidere le cose imminenti, le incombenze, a chi va alla casa, quanto per i figli, le cose da risolvere, e poi, in un secondo momento, la causa veniva rimessa, di fronte al giudice istruttore, il quale avrebbe assunto le prove, per confermare, il 98% delle volte, sì, o comunque, modificare, modificare il restante, i provvedimenti presidenziali, ecco, non c'è più questa bifase, che, quanto durava? Due mesi? Due mesi? Tre mesi? Cioè, magari, se poi i giudici, invece di mettere le udienze, a sei o sette mesi, l'una dall'altra, magari le avessero messe un po' più vicine, non erano più questi mesi. Quindi il problema dei tribunali, non è la lunghezza, delle procedure in sé, ma veramente l'ingolfamento. L'ingolfamento, il sottorganico, cioè, hai capito? Quindi, o vuoi, e invece, secondo me, non è più facile divorziare, è più difficile, perché comunque sia, cioè, ci sono, delle, degli studi, studi prodromici, delle documentazioni che devi produrre, che te lo rende più difficile. E poi qualcuno se la deve pure leggere, questa documentazione. Ascoltami, lascia perdere noi, quello che dovremmo fare, e tutto quanto. No, io parlo dei giudici. No, no, infatti io ti dico, per esperienza, per carità, come sempre, non si può generalizzare, in tutte le categorie ci sono professionisti, no, meravigliosi, chi meno, ma a me, più di una volta è capitato che arrivassi davanti al giudice, e questo non sapesse neanche di cosa stessimo parlando. Cioè, parliamoci chiaro. E avevo depositato, magari un atto di citazione, un ricorso, e la mia controparte, la sua costituzione, o viceversa. Certo. Adesso, che deve leggersi, otto memorie, quattro memorie di uno, e quattro memorie dell'altro, e infatti, quando parla del coso, parla di ricorsi, brevi, no? esorta a fare delle memorie sintetiche. Vuoi sapere, esattamente, i figli a che ora vanno a danza, a che ora vanno a faticismo? Quello, no, però, infatti, qua dice, la riforma rafforza la centralità dell'interesse prevalente del minore, no? Che va bene, è quello, però, quando fai queste memorie, devono essere sintetiche, significative e sintetiche. Io, vabbè, io parlo molto, ma scrivo poco, perché io sono dell'avviso, effettivamente, che tante sbrodolate, se mi annoio io a leggerle, un giudice, no? Secondo me, si annoia ancora di più, no? Quindi, una volta che esprimi il tuo concetto in maniera chiara e precisa, non c'è bisogno di ripeterlo quattro volte con le stesse, con termini diversi, anche perché, no? Il giudice, Iura Novit Curia, dovrebbe sapere la legge, Cioè, gli dai input, accidenti, cioè, non è che devi spiegargliene in un altro modo perché non ci arriva, no? Quindi, ti dico, però, ne hai quattro e quattro, cioè, ne deve leggere otto. E ripeto, sì, sulla carta va benissimo, perché questo piano genitoriale, in cui tu praticamente devi dire quante volte tuo figlio va in bagno, no? Potrebbe, effettivamente, favorire il giudice a dare un provvedimento, fornire un provvedimento che possa essere proprio aderente alle esigenze di quella famiglia. dal punto di vista pratico io non so quanto potrà essere fattibile e a sto punto, perché il tribunale della famiglia, allora, prima mi formi i giudici, mi formi i professionisti, fai n, no, convegni, anche per gli avvocati, per gli psicologi, no, no, noi prima abbiamo fatto la riforma, abbiamo messo, fatto entrare in vigore la riforma, poi, con calma, costituiremo il tribunale, costituiremo il tribunale della famiglia, ma dimmi che senso. se ho capito bene, essendoci moria di personale, lo dovranno spostare da una parte e metterla dall'altra, quindi la coperta quella è, non è che assumeranno a posto. tanto fanno i concorsi, però comunque sia, no, ti dico, ma anche proprio, allora, sì, dal punto di vista pratico, il telematico, agevolato, no, ti aiuta, tutto quanto, però, quello che in teoria dovrebbe, comunque, no, agevolare, rendere tutto più veloce, secondo me, non so fino a che punto sia così. Bene, questa è, sì, l'idea della nostra, Sabrina Brombal, ma da come ci sta dicendo, è un po' La categoria degli avvocati, tranne, vabbè, penso, non so qualcuno, ma la pensiamo tutti così, perché, davvero, dal punto di vista teorico, giusto, Sarà benissimo. interessante sapere che cosa ne pensano anche i giudici, sarebbe, neanche i giudici sono così contenti, no, io, vabbè, con un paio con cui ho potuto confrontarmi, anche loro sono preoccupati, sono preoccupati, perché comunque sia, nel confronto della persona comune, no, non addetta ai lavori, cioè questi, no, articoli, questi titoli sensazionalistici, ti mettono, dicono, ah, vedi, ah, si divorzia più facilmente, ah, cavoli, facciamo separazione e divorzio tutto insieme, eh, no, no, cioè, poi, nella pratica, cosa vuol dire presentare contemporaneamente due provvedimenti, due ricorsi, ti pregiudica tante altre cose, per risparmiare quanto? Tre mesi? Certo, non so se ne valga la pena, cioè, insomma, va bene, così può, dirà, è più facile, no, non è vero, è più complicato, è più complicato, bene, bene, noi ringraziamo, è già finito, è già finito, le sentenze, la prossima volta, cara Brombale, insieme al Tribunale di Strasburgo, no, scherzo, noi ringraziamo e salutiamo la nostra fantastica avvocato, Sabrina Brombale, vuoi essere chiamata avvocata? Ma va, no, ma va, ma va, ok, non sono quelli i problemi, no, della vita, e neanche delle donne, no, per niente, quindi rinnoviamo gli auguri a tutte le nostre telespettatrici, ma l'augurio che non ci sia più bisogno dell'8 marzo, e diamo la linea al TG, grazie ancora, Sabrina, grazie a te, buonasera a tutti, buon TG. Grazie a tutti.